Se non si fosse fidato della loro opera di procacciatori d'affari, avrebbe dovuto pagare una somma consistente di denaro oltre a quella già sborsata. Sì, perché la vittima, un facoltoso gelese di mezza età, aveva già dato dei soldi, migliaia di euro pagate in due diverse occasioni, convinto di avere un debito ingente nei confronti dell'Enel. Ma si trattava di una truffa vera e propria. E' quanto scoperto dalla polizia del locale commissariato. Due le persone ad estate tradotte ai domiciliari. Si tratta di Antonio Landi, 26 anni, e di Emanuele Comito, 27, già noti alle forze dell'ordine. Sono stati fermati dal personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre ricevevano del contante, un inganno reiterato nel tempo. Per non adestare sospetti, i due arrestati indossavano anche la divisa in dotazione agli impiegati dell'Enel. La polizia di Gela raccomanda ai cittadini di diffidare assolutamente da sedicenti addetti Enel che offrono contratti vantaggiosi in cambio di somme di denaro. Si tratta, spiega una nota del commissariato, di procedure non riconosciute dalla società in questione. Se il cittadino venisse contattato, è importante segnalarlo subito agli uffici di polizia. E nell'ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di abusivismo commerciale e contraffazioni di marchi e disegni distintivi in genere e della verifica della corretta osservanza delle disposizioni legislative in materia di diritti d'autore e illegita duplicazione, polizia, carabinieri, guardie di finanza, polizia municipale e capitolaria di Porto hanno passato all'assetaccio il lungomare Federico II di Svevia e i mercatini rionali. 32 le persone identificate, di cui 12 extracomunitari, elevato un verbale amministrativo per vendita abusiva a carico di un cittadino bengalese sprovvisto di licenza itinerante. 14 verbali per occupazione di solo pubblico, 4 per violazioni al regolamento comunale, una contestazione in materia di canone Rai e due verbali di contestazione sulla normativa dei registratori di cassa. Il servizio sarà ripetuto per tutta la stagione estiva. Sempre la polizia di Gela, diretta da Francesco Marino, ha denunciato 4 persone per diversi remati e ha controllato, assieme al personale della squadra nautica, stabilimenti balneari, locali di intrattenimento con serate danzanti e centri internet e scommerse. 10 le attività ispezionate, 2 le infrazioni contestate e 51 le persone controllate.